Trasparenti, gelatinosi, planktonici e anche eleganti. Penserete che stiamo parlando ancora delle meduse, ma chi sono in realtà? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su Bio Mare, la rubrica che parla di biologia marina a cura di Marcella all'interno del canale di SubH2O. Oggi un breve video di un gruppo di animali marini che, come ho già detto nell'intro, sono trasparenti, gelatinosi, planktonici e molto eleganti. Sebbene ancora molti si chiedono a quale film appartengono visto che assomigliano alle meduse, altri sono abbastanza certi che si tratti di un gruppo a sé stante rispetto a quello degli cnidari. Stiamo parlando infatti del film degli ctenofori. Il termine ctenofori deriva dal greco, con ctenos che vuol dire pettine e foros che porta, che quindi letteralmente sta per portatori di pettini. Ma prima di capire cosa sono e a cosa servono questi pettini, cerchiamo di capire un po' di più sull'anatomia di questi invertebrati. Anche loro, come avevamo visto negli cnidari, hanno il corpo costituito da tre strati. Abbiamo infatti quello esterno, cioè l'epiderma, poi quello intermedio, chiamato mesoglea, e quello più interno, chiamato gastroderma. Il corpo ha una forma più o meno sferica, un po' allungata, come fosse un ovale per intenderci. Alcuni presentano invece un corpo più appiattito, come ad esempio il cinto di Venere, il cui nome scientifico è Cestus Veneris. Gli ctenofori presentano otto fila di cteni, cioè dei pettini che percorrono come delle bande il loro corpo e che sono composti da ciglia che si muovono in modo coordinato e permettono a questi esemplari di muoversi. Il che è veramente particolare, poiché solitamente gli organismi che utilizzano delle ciglia per muoversi sono generalmente molto più piccoli degli ctenofori. Il movimento di queste file di ciglia è regolato da un organo chiamato statolite, posto nella parte ab-orale del corpo dell'animale. Si comporta come una sorta di cervelletto, il cui componente principale è una statocisti, con delle ciglia sensoriali interne che vengono stimolate dal movimento di un piccolo statolite interno. Questi invertebrati hanno un paio di tentacoli con delle estroflessioni laterali chiamate tentille. Ed ecco qui una prima distinzione con le meduse. Le estroflessioni presenti sui tentacoli, seppur vengono utilizzate comunque per catturare le prede, come avviene negli cnidari, non contengono però cnidociti, cioè quelle cellule che contengono all'interno la loro sostanza urticante. Ma delle cellule chiamate invece colloblasti, che contengono all'interno una sostanza adesiva. Quindi per l'uomo sono assolutamente inoffensivi. Parlando della loro alimentazione, gli ictenofori sono carnivori principalmente. E una volta catturata la preda la portano alla bocca, dove poi comincia la digestione. Una particolarità riguardo invece la loro riproduzione è che molti sono ermafroditi. Piccola parentesi, l'ermafroditismo per intenderci è quella condizione in cui degli individui di determinati specie possono all'occorrenza produrre gameti sia maschili che femminili, dove per gameti si intende per gli individui maschi gli spermatozoi e per gli individui femmine le cellule uovo. Quindi per riprodursi non è necessario che ci siano degli individui di sesso maschile e di sesso femminile. Negli ictenofori quindi uno stesso individuo libera nell'acqua sia i gameti maschili che quelli femminili. E così avviene la fecondazione. Successivamente si forma una larva chiamata CDPD, da cui poi si sviluppa l'adulto. Nel Mediterraneo, purtroppo, e poi vi spiegheremo il perché, è diffusa la specie Mnemiopsis lady, che ha questo aspetto. Beh, però adesso se vi capita di incontrarla durante le vostre immersioni o anche semplicemente quando fate snorkeling, sapete che non è una medusa. E lo capirete osservandola bene e notando quelle file di pettini che percorrono il suo corpo e che spesso muovendosi appaiono iridescenti. C'è da precisare però che, e questo è riferito al purtroppo di prima, questa specie non è originaria del Mar Mediterraneo, ma dell'Oceano Atlantico ed è stata introdotta accidentalmente attraverso le acque di Zavorra delle grandi navi commerciali. Pertanto è considerata a tutti gli effetti una specie aliena o all'octona, perché comunque si trova al di fuori del suo naturale areale di distribuzione, che è appunto l'Oceano Atlantico. E questo esclusivamente per azione indiretta dell'uomo. Proprio le specie aliene sono un problema di una certa importanza negli ultimi anni, dal momento che sono considerate una vera e propria minaccia per la biodiversità locale. Ma magari ci faremo un video a parte più in là. Detto questo io adesso ho finito, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e a iscrivervi al canale in modo da non perdere tutti gli altri video. Vi invito anche a iscrivervi alla pagina Facebook dove pubblichiamo davvero tanti articoli che riguardano la subacquea, la natura e non solo. Adesso io ho veramente finito, vi auguro ancora un buon Natale e noi ci vediamo senz'altro ad un prossimo video. Ciao! 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 Grazie.